Perché Levi dice che Cristo si è fermato a Eboli? E soprattutto, che cosa vuol dire essere fuori dalla storia? Diciamo che Levi non usa proprio il concetto di essere fuori dalla storia. Questo concetto lo useranno poi Primo Levi e Pasolini. Lui dice negato alla storia, ma il senso è lo stesso. Allora, Carlo Levi era un uomo del nord, era di Torino. Era laureato in medicina, ma non aveva mai praticato, perché si era appassionato alla pittura e aveva deciso di dedicare la sua vita all'arte. Ma soprattutto era un uomo politicamente scomodo per il fascismo. Infatti, durante il dominio fascista venne mandato al confino in Lucania. È il 1935. Qui osserva ciò che lo circonda, prende appunti e quando torna a casa scrive Cristo si è fermato a Eboli, che diventerà il primo caso nella letteratura del Novecento, dove uno scrittore si chiede come l'Italia sia cambiata. La Lucania degli anni Trenta era profondamente diversa dal mondo da cui proveniva Levi. I contadini lucani non sapevano scrivere, parlavano solamente in dialetto e non avevano strumenti di elaborazione culturale simili a quelli di un borghese del nord. Levi comincia a porsi il problema di come conoscere una realtà così diversa dalla sua e per descriverla utilizza due termini, mitico e magico. La Lucania è un mondo mitico perché la regione non ha ancora spazzato via i legami con alcune credenze arcaiche e magico perché è interamente fondato sui rapporti di relazione tra le persone in maniera del tutto irrazionale. Per esempio, a seconda del modo in cui una persona viene osservata, questo può influire su di lei in maniera positiva o negativa. Non va poi dimenticato che Levi scrive in uno di quei momenti cruciali della storia. Parliamo della Seconda Guerra Mondiale, siamo... Levi scrive nella seconda metà della Seconda Guerra Mondiale, tra il 43 e il 44. E quindi, forse influenzato dalla criticità del periodo storico, inizia il suo racconto usando il termine storia con la S maiuscola. Levi sta rievocando un mondo, cito, negato alla storia e allo Stato. Che cosa vuol dire? Qui il termine storia probabilmente vuole rimandare al momento storico della guerra, la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto, credo, rimandi a un discorso che fa proprio Levi nelle prime pagine e cioè a tutti quei popoli che hanno attraversato la penisola, romani, greci e che Levi cita proprio nelle prime pagine durante il suo racconto. Stato, invece, rimanda all'idea di nazione. L'Italia come organizzazione politica e civile. Quindi i contadini lucani sono rimasti fuori dalla storia dello Stato. Appartengono a un altro mondo. Sono del tutto estranei all'Italia moderna. La civiltà dei contadini è immobile. Non è nella storia ma nel mito. Non sente la modernità come cambiamento ma il tempo come invenzione ciclica e sempre uguale. E quindi non sa che cosa sia il progresso. Levi ci riporta poche ma importantissime frasi che gli riferiscono i contadini lucani. Levi scrive, noi non siamo cristiani, essi dicono, Cristo si è fermato a eboli. Quindi i contadini lucani riconoscono di non essere cristiani ma non nel senso religioso. Cristiano per loro significa uomo e cioè una creatura che è stata privilegiata dal corso dell'evoluzione. E perché? Perché Cristo si è fermato a eboli. La cittadina di eboli diventa una frontiera tra due mondi. E la frase proverbiale che ho sentito tante volte ripetere nelle loro bocche non è forse nulla più che l'espressione di uno sconsolato complesso di inferiorità. Noi non siamo cristiani, non siamo uomini, non siamo considerati come uomini, ma bestie, bestie da soma e ancora meno che le bestie, i fruschi, i frusculicchi che vivono la loro libera vita diabolica o angelica. Perché noi dobbiamo invece subire il mondo dei cristiani che sono di là dall'orizzonte e sopportarne il peso e il confronto. Il titolo di questo libro non è una frase inventata da Levi ma pronunciata dai contadini stessi e vuol dire indirettamente che il mondo si divide in due parti. Gli uomini, cioè tutti coloro che partecipano all'idea di umanità, e coloro che sono oltre l'umano, cioè che partecipano alla condizione della bestia o di essere indefiniti, i frusculicchi. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l'anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia. Levi in questo modo cerca di sintetizzare tutti quei termini che fanno parte della razionalità occidentale. La morte di Cristo rappresenta nell'ideale comune la continuità della storia verso un futuro compimento. Tutti gli esseri umani vivono e muoiono con la convinzione che arriverà il giorno del giudizio e conosceranno il loro destino. Il tempo per un cristiano è un processo che si sviluppa verso l'idea finale di un destino che si compirà. Per chi non ha conosciuto Cristo esistono altre idee, ma non quella di tempo e di anima individuale. Infatti in quei luoghi non esiste una separazione tra individui. Gli abitanti sono legati tra loro da forze irrazionali e magiche che non contemplano l'idea di individualità. Esiste l'idea del riscatto, ma non quella di speranza. Non esiste il legame tra le cause e gli effetti, non esiste la ragione, non esiste la storia. I contadini lucani non si considerano cristiani e come un principio di causa-effetto automaticamente si considerano appartenenti a un mondo primordiale che non ha conosciuto l'evoluzione logico-razionale del mondo moderno. Qui però dobbiamo aprire una piccola parentesi. Infatti dopo la guerra l'antropologo italiano Ernesto De Martino, incuriosito dal libro di Levi, decide di andare in Lucania e studiare la zona. Ne ricaverà un libro, su De Magia, dove sosterrà che Levi ha commesso un errore. De Martino dice, i contadini lucani non sono fuori dalla storia, hanno solamente elaborato un sistema di pensiero alternativo. Levi continua, Cristo non è arrivato, come non erano arrivati i romani che presidiavano le grandi strade e non entravano fra i monti e nelle foreste, né i greci che fiorivano sul mare di Metaponto e di Sibari. Nessuno degli arditi uomini di Occidente ha portato qua giù il suo senso del tempo che si muove, né la sua teocrazia statale, né la sua perenne attività che cresce su se stessa. Nessuno degli occidentali ha portato all'idea del tempo che si muove, cioè del tempo che è progresso, né l'idea di stato plasmato su un modello divino. I grandi viaggiatori, dice Levi, si sono mossi in tutti i luoghi, ma soprattutto nel mondo della propria anima. Cristo stesso è arrivato per scardinare le regole dell'antico ebraismo e dare l'idea di un tempo che aspetta una redenzione. Ma in questa terra oscura, senza peccato e senza redenzione, dove il male non è morale ma è un dolore terrestre che sta per sempre nelle cose, Cristo non è disceso. Cristo si è fermato a eboli. Quindi Cristo viene preso come rappresentante dell'inizio del senso della storia e del tempo. Scendendo sulla terra e facendosi crocifiggere, ha insegnato agli uomini che il tempo va verso una redenzione. Dato che qui non è arrivato, questi uomini non hanno il senso del tempo, non hanno il senso della colpa e per loro il male è un dolore terrestre. Cioè è un dolore che non dipende da una divinità che agisce sugli uomini.